Basta non ne posso più giocare a FIFA 12 Quando è che mi arriverà FIFA 15? Sonato il campanello Andiamo a vedere chi è Bella ragazzi, oggi sono qui e siamo arrivati su FIFA 15 Ultimate Team Eccola qua, questa è la mia prima squadra di giocatori sconosciuti al mondo Saranno quelli serie D, serie Z Comunque, partendo da questa squadra, oggi andremo subito a scartare i primi pacchetti gratis Ne ho già aperto uno Non è venuto fuori niente interessante Adesso ne ho altri 5 che ti offre subito il gioco appena lo compri Quello di Hazard Andiamo a vedere chi troviamo Oh, Pollic Beh, insomma Se è la prima volta che gioco Ultimate Team, posso dirlo Non sono male Solo che io preferirei trovare i giocatori italiani Visto che voglio farvi la prima squadra, quella italiana Comunque, no, non voglio scartare Teniamo tutto al club Che comunque dopo li vendiamo questi giocatori Il prossimo vediamo questo Non lo conosco neanche questo giocatore Vediamo di trovare qualcosa di interessante Vai, vai, non saltiamo Prodle Bene, mai sentito in vita mia Ehm, cos'è, un difensore Comunque, niente italiani Visto che dobbiamo fare proprio la squadra italiana Comunque mettiamo tutto nel club Allora, altri pacchetti Andiamo Questo Me lo sento che è buono Vai, saltiamo Perché saltare porta fortuna Porta fortuna Vai, 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 vai Ehi, der Abbiamo l'attaccante iniziale per la nostra squadra Grandissimo 75, 82 di velocità E' ottimo Scocco Questo non lo conosco Non conosco nessuno Poi vabbè West Ham Bella Questa Questa mi piace Teniamo tutto Perfetto Ultimi due pacchetti Che decideranno quindi della squadra Che utilizzeremo per fare la prima partita Eccoci qua Questo Non saltiamo Questo giocatore dell'Atletico Madrid Che non conosco Ci porterà fortuna Vai Vai, 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 vai Dai muoviti Non apre neanche il pacchetto Dai Eccolo E' arrivato Non poteva mancare Che l'abbandono a Ultimate Team Per problemi Ok Eccolo qua E' venuto fuori il pacchetto Tedeschi Un italiano De Feudis Questo lo utilizzeremo Sempre per l'inizio Niente Teniamo tutto Mi sembra molto interessante Fino adesso Ebbene sì Ultimo pacchetto Speriamo di trovare un Messi O un Cristiano Ronaldo Anche se è pacchetto Bronzo Quindi Credo sia quello bronzo Sì sì Con Iguain Portaci fortuna Iguain 3 2 1 Salta Ok Abbiamo un altro attaccante Possiamo mettere la nostra squadra Comunque dopo giocatori Boh Mai sentiti nominare in vita mia Mettiamo tutto Nel club E adesso Andiamo a fare La partita La prima partita Eccoci qui Questa è la mia squadra Cioè Non è male per cominciare Ha intesa 65 Ma voglio dire Ho con un attacolic La bestia Cioè Questo è un giocatore fortissimo E temai E guardate questo esterno destro Tauvin 83 di velocità Trovate nei primi pacchetti Questo Castro Sarà quello di Cuba E Perisic Perisic Non so come si pronunci In porta perfino abbiamo Schwarzenegger Quindi meglio di così Possiamo subito partire Cerchiamo la prima partita 67 Valutazione 74 E insomma Insomma Ci sono quei giocatori Manchester United Vedremo Mamma mia Subito Subito Facciamogli vedere Chi comanda E dagli anche La monizione Sti gigliotti Va bene Giglio Andiamo Carcio d'angolo Vai dentro Vai dentro Vai dentro Subito 1 a 0 Tauvin Tauvin Mamma mia Andremo in divisione 1 Con questa squadra Me lo sento Bravissimo Tutto calcolato Dentro Goal 2 a 0 Letali siamo Letali Mamma mia Mamma mia Che gol No Mamma mia No Thor Chi è Questo è Thor E beh certo Quello del film Invincibile col suo martello Niente da fare Secondo tempo Stiamo vincendo 2 a 1 Manteniamola Stapartita No 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 Non è possibile Non è possibile Questi Che Lui va avanti Nessuno lo ferma Tira E si ritrova anche il pallone Sui piedi Queste cose mi fanno girare Di FIFA Guarda Perché se l'è ritrovata Su piedi Due pari Mamma mia Incubo Vai Superalo Cosa succede? Cosa è successo? Non lo so Il portiere ha perso pallone Ha perso qualsiasi roba Non l'abbiamo visto In questa partita Petro Oh mio dio Che azione Oh mio dio Cos'hai sbagliato Scocco Si proprio tu Scocco Niente ragazzi La partita È finita Con un pareggio Quindi Comunque 2 a 2 Prima partita Andata benissimo Comunque io spero Che il video vi sia piaciuto Qui su FIFA 15 Non porterò tanti video Su FIFA 15 Però Uno Al mese Sicuro Non ci farò nessuna serie Però Comunque io spero Che vi sia piaciuto Vi sorti a lasciare Un bel mi piace Un commento E iscrivetevi Per non vedere I miei futuri video Noi ci vediamo Con un prossimo video Bella Da GP The Best Player